La figura che andremo oggi ad analizzare è quella di Hans Pölzig, uno dei più influenti membri del Deutsche Werkbund e protagonisti del periodo della Neue Sachlichkeit, andando a esprimere un lato decisamente più espressionista di quella che fu l'interpretazione della nuova oggettività che si andò a definire prima nell'Europa tedesca, mentre l'Europa di lingua germanica e poi in tutto il resto del mondo nei primi decenni del XX secolo. Pölzig nacque a Berlino nel 1869, la madre era una contessa von Pölzig, il padre era un imprenditore di origine inglese, il quale non sicuro della paternità del figlio non lo riconobbe, quindi Hans Pölzig crebbe in una famiglia legata alla famiglia di origine e fu cresciuto da un maestro di coro e dalla moglie sempre a Berlino. Da un punto di vista di studi frequentò dapprima il Kunstginasium di Berlino, poi successivamente studiò presso la Tecniciae Hochschule di Berlino e lì portò avanti i suoi studi di architettura. Terminata la formazione, fece un periodo abbastanza lungo di praticantato e poi iniziò a lavorare come professionista e nel frattempo divenne anche, dopo i primi lavori, professore e direttore della Kunst und Gewerbe Schule di Breslau, cioè dall'Accademia di Belle Arti e di Disegno di Breslavia e successivamente la sua carriera da un punto di vista accademico proseguì appunto presso la scuola dove si era sostanzialmente formato da un punto di vista architettonico, dal 1920 al 1935 insegnò alla Tecnicia Hochschule di Berlino dopo aver concluso la sua esperienza a Breslavia nel 1916 e successivamente divenne anche direttore dell'Accademia Prussiana di Belle Arti di Berlino. Dopo gli anni di escesa del Terzo Reich e del nazionale socialismo nel 1936 si trasferì in Turchia ed ebbe lì il seguito della sua carriera con diversi incarichi anche abbastanza rilevanti. Da un punto di vista di professione, oltre a parte dell'insegnamento, Pölzig ebbe diverse committenze, prima di tutto di carattere industriale ma anche civile sin dall'inizio e nel 1916 venne incaricato come direttore dell'ufficio tecnico della città di Tresta e la sua militanza all'interno del Deutsche Werkung fu sempre molto molto influente, molto importante. Il primo progetto di Pölzig che andiamo a vedere oggi è il progetto che realizzò dal 1905-1906 a Maltsch, una piccola cittadina in una zona non lontana da Breslavia, e lì Pölzig andò a realizzare una Evangelische Kirche, cioè una chiesa evangelica appunto di paese. Il progetto a noi non interessa particolarmente per la sua rilevanza da un punto di vista di edificio, quanto ci serve in cominciare a capire il punto di partenza da cui Pölzig inizia a lavorare. Nella chiesa di Maltsch, che viene realizzata in un periodo abbastanza breve, con una struttura principalmente in muratura portante e quindi in modo abbastanza convenzionale, per quanto riguarda anche la copertura e per quanto riguarda anche i solai che sono tutti in legno, Pölzig opera con una geometria essenziale che è quasi soffusa e che va a codificare e a compartimentare quelli che sono i temi dell'edificio di culto, soprattutto l'edificio di culto di paese, che è una tematica che senza una certa capacità coincisa e sicura di lavoro, rischiava di apparire e di scendere in un linguaggio tipico e quasi vernacolare. Le forme sono chiare e semplici e l'inclinazione anche per quanto riguarda le forme innalzato, di quanto riguarda le forme della copertura, fanno sì che l'edificio si inserisca in modo molto uniforme e armonioso all'interno del paesaggio. Come vediamo dalla pianta, si tratta di un impianto a pianta centrale che riprende un elemento a croce greca, si vede che c'è un utilizzo di un modulo alla base del disegno dell'edificio e si vede in entrambe le piante sui vari livelli. Guardando questa pianta della copertura si vede tutta quella che è la carpenteria linea che fa la copertura dell'edificio, ovviamente questo volume che sporge è quello del campanile, il tema del quadrato e della forma geometrica essenziale si vede molto evidente e si vede anche come la complessità della carpenteria linea dell'edificio viene tratta sicuramente da quella che è la tradizione locale che poi il SIG va a studiare e riproporre all'interno dell'edificio. Questi sono alcuni dettagli del campanile e in pratica si vedono anche qui le carpenterie linee interne e come utilizza in modo abbastanza sapiente quelle che sono da un punto di vista tecnico le peculiarità dell'architettura della zona. I prospetti come vedete sono molto semplici nel senso che emerge questo disegno geometrico che si vede qua in facciata ma è appunto un disegno estremamente geometrico. Come vedete c'è un basamento in pietra che con questi contrafforti laterali va a fare da contrapunto all'edificio nei punti laterali, poi queste falde molto accentuate che sono tipiche dell'architettura della zona e che in questo caso vanno anche molto a mimare l'architettura rurale dei fienili e degli edifici comunque utilitaristici di quel tipo, il fronte principale è dominato dall'elemento della torre campanaria con l'orologio. Come vedete tutta la struttura, queste sono tutte murature in pietra intonacate, qua avete il basamento ovviamente in pietra, le vunture sono miste, c'è qualcosa anche in laterizio, principalmente pietra e poi invece tutte le strutture che vedete qua come tutta la parte superiore della torre campanaria è in legno. Si vedono anche in queste viste, si vede abbastanza l'utilizzo dei colori, in pratica oltre ai colori fondamentali che sono i colori del manto della copertura e poi il bianco intonacato di tutte le facciate, il nero che va a disegnare tutti gli elementi delle geometrie di facciata, ci sono alcune strisce verdi molto semplici e questa forma semplificata che va, come dicevamo, a indirizzare in questa semplice geometria un tema abbastanza comune ma anche abbastanza complesso da gestire e queste geometrie che vedete vengono derivate dalla forma dell'edificio poi ridisegnate sulla facciata dando un motivo decorazionale dove in realtà la decorazione non c'è perché in sostanza quello che permane nell'edificio sono queste facciate pulite con semplicemente, questi elementi sono complanari semplicemente disegnati sulla facciata ma non sono elementi architettonici puri, si vedono invece gli elementi architettonici sono molto netti i tagli delle aperture che vedete sulla facciata che sono poi, torno a ripetere, tutti elementi tipici dell'architettura della zona, è importante poi l'interno che come vedete, questa immagine non ha colori però anche all'interno le forme e i colori sono tutti in bianco e nero, poi c'è ovviamente il legno degli elementi delle panchie che sono degli elementi estremamente semplici, tenui, la materia è sempre liscia, anche il legno, anche le varie superfici, come dicevo viene mantenuto un bicromatismo bianco e nero con un inserimento, questi elementi che voi vedete più scuri sono lo stesso verdone che vedevamo in questi disegni, questo stesso più o meno verdone che viene ripreso che poi è una connessione con il verde che sta sull'esterno ed è importante lo spazio interno anche perché sotto lo spazio della volta crociera interna vi è lo spazio unitario in cui la comunità va a celebrare il rito, la comunità evangelica ovviamente ha una certa importanza per quanto riguarda la parte del canto, spazio interno quindi è importante lo spazio interno e l'unitarietà dello spazio interno che si vede anche con la balconata nella parte superiore che va a racchiudere questo spazio come viene anche trattata la luce e in queste immagini che vedete dall'esterno se vedete qui sono quel disegno di geometria che vedevamo prima in realtà non c'è più nell'immagine nella realtà attuale ma comunque quell'elemento massiccio che qua vedete sono stati successivamente poi intonacati di quello che è l'elemento del dado granitico di questi contrafforti e di questo basamento posto a tutti i lati che diventano appunto la pietra d'angolo su cui simbologicamente si va a fondare questa chiesa sono elementi in cui si vede bene come Pulzig è in grado all'interno di questo progetto di gestire e di utilizzare elementi dell'architettura classica con una certa anche volontà espressiva cioè classica architettura classica per intenderci classica locale vernacolare locale non certo classica antica in questo senso e giocare con questi elementi all'interno della composizione architettonica con la geometria in modo semplice però con una volontà espressiva legata alla storia contestuale ora passiamo a un progetto successivo in quanto il progetto questo progetto è per far vedere un punto di partenza dell'architettura di Pulzig contando che questi sono i primi anni in cui Pulzig si trova ad essere anche ad essere anche insegnante presso la Kunstungwerbe Schule di Breslau e in pratica successivamente tra 1908 e 1914 a Pulzig viene commissionata la realizzazione di una diga la telesperre di Klingenberg e il progetto che appunto andiamo a vedere è quello della telesperre di Klingenberg che è questa diga che vedete in queste immagini qua questo elemento questo ovviamente è tutto il bacino la diga è una diga realizzata in muratura in pietra è una diga a gravità curva in muratura in pietro che sfrutta il principio INSE per quanto riguarda la tenuta della diga rispetto al peso della struttura questa immagine voi la vedete durante le fasi di restauro e di ristrutturazione della diga che sono iniziate nel 2009 e si sono concluse poi nel 2015 infatti per questo vedete le gru e vedete qua l'invaso curvato della diga che come dicevamo ha una un'altezza di 33 metri e mezzo dalla base dell'invaso interno ha una lunghezza della corona di 310 metri e ha un grado di inclinazione del grado del raggio che va a incurvare la grilla la diga è di 250 metri il bacino alle spalle è un bacino importante diciamo che la diga veniva e venne costruita per necessità sia di produzione idroelettrica perché poi la diga dà flusso a due acquedotti quello di dresden-koschutzt e poi successivamente anche al contemporaneamente anche all'acquedotto stesso di klingenberg e tramite il primo acquedotto va ad alimentare due centrali idroelettriche quella di dorfhain e quella di tarant e invece poi l'acquedotto di klingenberg alimenta la centrale di klingenberg che è questa che vedete qua sotto sono questi edifici che che vedete qua e però la diga aveva anche una necessità e una voluna un utilizzo di protezione dalle inondazioni perché precedentemente il corso del del fiume aveva creato diverse problematiche e inondazioni nella 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 zona appunto intorno a ad resta intorno ad resta e è interessante vedere da questa immagine si vede subito come questa questo sostanzialmente questa opera ingegneristica qui polsi per a cui viene chiesto polsi di andare a creare un un'immagine architettonica una progettazione architettonica polsi la va a sfruttare degli elementi che hanno una funzione sia strutturale che espressionistica che sono questi elementi di contraforte che voi vedete sul fronte principale creando un immagine molto forte e anche un po' kafkian a un certo punto di vista inesorabile sopra quell'enorme abisso dell'altezza di questi oltre oltre 33 metri di altezza in questo vuoto in cui la diga contiene il bacino di quasi 18 milioni di metri cubi di acqua che sta alle spalle quindi una forza immensa si crea appunto questo 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 volto creato da questi questi elementi di di contraforti che sono gettati sopra il terreno che hanno queste arcate molto umbrose che creano questa sorta di grande mascherone di questo volto che si protrae ecco questa che vedete qua sotto è l'opera di presa degli acquedotti questa la parte superiore che è sicuramente un parte del sistema di sostegni che però torno a ripetere hanno più una volontà espressiva che strutturale anche se comunque hanno una funzione strutturale qua lo vediamo proprio di fronte il sistema degli arconi vedete tutta la struttura in pietra vedete anche le dimensioni rispetto alla persona umana abbastanza importante la dimensione della della diga anche il fronte di 310 metri è abbastanza lungo sopra corre una strada che passa tutto intorno che è aperta al pubblico e come dicevamo la l'opera di presa dell'acqua di sotto degli acquedotti e sopra il mascherone che ovviamente da questi questi elementi di occhi non dovrebbe gettare acqua in condizioni normali e fino ad ora non ha mai avuto problematiche di questo tipo fortunatamente questa invece è queste sono le opere di scolo delle acque quindi per il normale deflusso del torrente questa è passano parte degli edifici della centrale che però non attengono particolarmente l'opera di più il sì che in parte sono parte del suo progetto ma come si può vedere anche un po dal gioco delle coperture ma non è parte principale del suo progetto invece questa è la strada che passa sopra alla diga e queste sono le aperture l'interessante del progetto questa durante una vista dall'interno durante la ristrutturazione recente o meglio di iniziata più di una decina anni fa oramai della della diga e ecco qua da questa immagine questo è uno dei disegni tipo il sig si vede bene l'immagine di questo mascherone di questo elemento molto figurativo è interessante che a vedere come in quest'opera sicuramente di un certo peso sotto ogni punto di vista strutturale e anche fisico il sig gioca sulla gravità di questo questa questa immagine di mascherone inserito all'interno appunto della delle foreste nell'intorno del di dresda e che si apre come vedete vedete come il paesaggio nell'intorno appunto che si apre a quella a cui spalle si apre il lago artificiale che viene creato e per la diga e vedete come appunto questo elemento che sormonta i 310 metri della lunghezza è un elemento che ha sicuramente una volontà espressionistica con questa questo mascherone con questa sorta di corona superiore che viene posizionato nel punto centrale dell'arco al di sopra dell'opera di uscita dell'acqua questa è una vista dal lago alle spalle e qua vedete l'altezza della diga vede ovviamente la sedimentazione nei decenni dell'acqua queste sono le varie opere di messa in sicurezza che sono state fatte questa è sempre la diga durante le fasi dei lavori e parte del bacino e qua un dettaglio del mascherone di cui abbiamo parlato finora questa in una raffigurazione d'epoca queste sono alcune immagini dell'opera dei lavori e fasi dei lavori e fasi di cantiere ovviamente il bacino quel tempo era vuoto ora passiamo oltre andando un attimo a a vedere come polsig nei progetti successivi che iniziano ad essere di natura più urbana va a declinare un attimo quella sua appartenenza sicuramente importante attivo al dolce verpund attraverso anche una capacità interpretativa della 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 nuova oggettività della noia esaclicat che non è solo funzionalistica che non è solo legata alle geometrie ma che è una capacità interpretativa con una volontà appunto espressionistica cioè di esprimere una 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 volontà che nasce non tanto però fortunatamente in polsig dal dal dalla volontà di rappresentazione del progettista stesso ma dalle forme dalle situazioni dai contesti all'in quale il progettista va a operare infatti come vedremo questa volontà espressiva viene sempre declinate in modo completamente diverso il progetto che andiamo a vedere adesso è il progetto realizzato fra il 1911 e 1913 a breslau polsig insegna sempre la breslau in quel periodo e il progetto è la geshefts house in jungen strasse in pratica si tratta di geshefts house e casa di negozi quindi è un edificio terziario che accoglie principalmente commerciale e negozi e in parte anche uffici e l'edificio adesso che adesso andiamo a vedere è un edificio che sicuramente ha una capacità notevole di prevenire i tempi anzi di anticipare quelle che sono le 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 capacità espressive le tendenze espressive successive tant'è che ovviamente qua siamo diversi più di 15 anni anzi in questo caso quasi 18 anni dalla pubblicazione di version architektur di jane re eppure il i temi che generi andrà a citare nel suo libro fondamentale successivamente sono messi a tema in buona parte da polsig ovviamente da questa immagine è quello che vediamo è questa sorta di fenêtre un longeur antiliteram con questi elementi orizzontali che sono dei cornicioni che però vedete che in sostanza diventano delle delle semplici marca piano in calcestruzzo armato vedete come in sostanza la struttura in calcestruzzo armato si vede e viene lasciata a vista sulla facciata viene minimamente trattata però in sostanza è ben evidente in tutte le parti con una copertina metallica nella parte superiore e vedete come in pratica l'edificio fa vincere questa orizzontalità questo tema di orizzontalità rispetto alla verticalità della struttura data da questi pilastri in calcestruzzo armato col sistema nbic semplice quindi con il fungo sui due lati geometrizzato questo è l'edificio come vedete si va a inserire in una posizione d'angolo con un inserimento in una ruco redor e in pratica vedete come anche da un punto di vista di altezze vedete poi il rapporto polsig va a trovare un rapporto con il contesto che permetta di superare certamente l'altezza degli edifici intorno ai quali si attacca gli edifici storici quali si attacca ma di dare comunque con questo elemento che è semplicemente il marcapiano su cui si posiziona questa esile stretta terrazza che vedete superiormente e con l'arretramento soprattutto del piano superiore il rapporto con l'altezza degli edifici nel contesto e poi sale ulteriormente due piani scalando verso l'interno l'elemento dello scalare è sicuramente l'elemento fondamentale di questo progetto perché ovviamente la soluzione della facciata curva in questo caso cioè la soluzione di quest'angolo che viene curvato è una soluzione che polsig va a individuare proprio per dare una continuità su entrambi i fronti senza spezzarla a questa orizzontalità che vuole sottolineare nel progetto e che è una orizzontalità che ha una necessità non solo espressiva ma in pratica ha una volontà anche da un punto di vista proprio pratico nel senso che la si vede adesso andiamo questa immagine d'epoca andiamo però a vedere una un attimo avanti e vediamo una sezione del dell'edificio penso che questa la vedete bene questa in realtà è una sezione schematica però in sostanza vedete la struttura in calcestruzzo armato con gli incastri vedete queste sono ovviamente le travi in estradosso che reggono tutti i vari solai il il pilastro con l'attacco una sorta di capitello sistema nbic e qua vedete come in pratica dal piano terra in avanti vedete come vedete l'edificio a quattro piani fuori terra più un sottotetto è uno praticabile utilizzato normalmente e uno non praticabile minimo superiori e poi un un interrato quindi per un totale di sette livelli e vedete che per aumentare la superficie dello spazio spazio commerciale commerciale a piano terra ufficio a piani sopra ma poi gli spazi erano utilizzabili sono utilizzabili ovviamente in modo in modo libero va a far aggettare sempre in modo costante la struttura verso la strada in questa versione che in questo di questa sezione si vede un attimo bene lo schema qua c'è un questa è la sezione che poi invece è quella reale quella che che pulsi va ad utilizzare e come vedete c'è il sistema nb che è sempre quello che vedevamo prima la copertura sempre curvata qua abbiamo questo ovviamente a gettare questi sono i cornicioni che avevamo primo fuori dall'esterno e vedete questo a gettare che permette ovviamente di aumentare la superficie poi nella parte alta che poi viene realizzata in modo ulteriormente diverso perché questo piano che in questa sezione come vedete non è utilizzabile poi viene trasformato ulteriormente in quello che è il progetto che viene realizzato come vedete in pratica questo è lo stretto terrazzino che vedevamo e vedete come l'edificio esce e poi riarretra nei piani alti ora questo è un gioco che permette a pulsi che nonostante la larghezza abbastanza ridotta della strada di sfruttare con un aggetto più superficie quindi aumentare la superficie dell'edificio questo è il muro cieco a confine questo vedete qua e sfruttare come dicevamo la maggiore superficie ma poi anche arretrare i piani superiori poi potessi alzare ulteriormente nei livelli e permettere poi una vista prospettica dalla strada che in sostanza si va a fermare nella parte appunto tra il piano terzo e il piano quarto in sostanza su questo punto si vede ovviamente anche qui vedete lo stesso gioco questa è in realtà la sezione dell'edificio che viene realizzato è proprio questa la sezione corretta quella in cui che viene poi utilizzata in fase esecutiva infatti vedete il piano terra i sistemi del calcestruzzo armato tra ben stradosso pilastro e capitello sistema nb che vedete come escono le varie parti cornicioni che vediamo sull'esterno le varie aperture e qui vedete il balconcino continuo più più piccolo e poi a superiore la parte del sottotetto anche qui sempre un elemento da copertura vedete la trave sempre né stradosso tra queste queste elementi questa sorta di abbaini vengono inseriti e lo vediamo poi nell'edificio nel senso che come vedete in pratica quella la parte della copertura è qua sopra come vedete si vede magari ecco si vede un attimo meglio qua la parte aggettante tra le varie parti portando arretrando il piano superiore si va a vedere meno vedete come tra l'altro nella parte dell'ultimo livello la parte del sottotetto che ha questi sono quegli elementi certi abbaini che vedevamo questi elementi hanno una ritmo che se vedete c'è una corrispondenza ovviamente e come succede nel palazzo storico ma anche se ovviamente non c'è una tripartizione dell'edificio in questo caso però viene mantenuta diciamo l'aumento della ritmia dell'apertura nella parte nella parte alta come un rimando storico e vedete il gioco che viene fatto da Pulzig qua vedete ecco andando invece ecco qua in questa vista si vede un po' meglio essendo una vista dall'altra si vede un po' meglio questo gioco che viene fatto sui piani alti e poi vedete che anche il quinto livello il quinto piano cioè il sesto livello fuoriterra viene in pratica poi utilizzato pienamente all'interno del progetto che viene realizzato ecco questo è il prospetto che se vedete prevedeva questi abbaini che non sono quello che è stato realizzato vedete l'aritmia in realtà questa aritmia questa è una non è la versione anche qui realizzata poi molte versioni vengono realizzate direttamente in opera questo invece il prospetto che viene realizzato ma anche qui come vedete la parte superiore cambia e c'è evidentemente il ritmo delle facciate degli edifici si vede bene come in pratica nonostante esistano alcuni elementi ancora decorativi che poi anche qui gli elementi decorativi sono fatti direttamente in calcestruzzo c'è un minimo apparato decorativo ma in pratica quello che vince è la struttura infatti voi vedete trave pilastro avete trave pilastro e soprattutto prima la trave per quel gioco di orizzontalità che vedevamo prima questi sono sempre studi della facciata fatti da pezzi e questa è la pianta dell'edificio e come vedete la pianta dell'edificio in pratica viene a crearsi all'interno una un cavedio più che una corte è proprio uno spazio di presa di area minimo e però qua vedete le campate una due tre quattro cinque sei campate ovviamente i moduli che vedete qua c'è tutto un sistema modulare la la maglia è una maglia quelle trave in calcestruzzo armato nel stradosso che abbiamo visto nelle sezioni che permette ovviamente all'edificio di di funzionare da un punto di vista statico ma soprattutto anche di liberare come vedete gli spazi in modo totale in modo che tutti questi ambienti come abbiamo visto negli edifici per grandi magazzini e anche negli edifici per uffici da delle sale vani in poi per esempio abbiamo visto come questi spazi utilizzati per il terziario avevano ovviamente un valore maggiore più lo spazio veniva liberato e configurato in modo in modo libero per ogni esigenza come avviene tutt'oggi e intorno al corpo della del cavedio di questa piccola corte ovviamente questo punto e questo punto sono i punti in cui in questa forma irregolare si attaccano gli edifici che stanno all'intorno il lotto in sostanza è questo come vedete c'è un elemento di attraversamento e qua vengono posti tutti i servizi un ascensore il corpo scale che serve su vari livelli con un suo ascensore questo aperto al pubblico questo piccolo montacarichi di servizio e qua vedete tutti i bagni posizionati qua dei piccoli spazi di servizio e quindi c'è una sorta di cuore nella struttura in calcestruzzo armato e però la struttura invece che sta sulla facciata sempre in calcestruzzo armato è visibilissima in facciata e accentuata anche se poi sormontata da quegli elementi orizzontali che sono quelli che invece danno il maggior gioco a Pölzig all'interno del progetto questi sono alcuni altri dettagli di studio della facciata con alcune notazioni direttamente di Pölzig non so se li potete vedere bene però sostanza l'edificio è questo questa è una sezione dell'edificio in cui se vedete tutte le sezioni che abbiamo visto erano su un unico corpo su questo questa sezione che invece vedete sotto qua seziona l'edificio facendo appunto le tre campate questi punti queste travi e stradosso sono ovviamente corrispondenti a questo pezzo della facciata e questa facciata che continuano questa sezione è fatta qui parte la copertura la parte interna e direi che questo edificio avrà successivamente tenetelo ben presente diversi forti influenze anche nel mondo dolce verpond e alcune le vedremo a breve soprattutto su Eric Mendelssohn ora proseguendo la carrelata degli edifici di Pölzig arriviamo a un progetto non realizzato che viene ad essere studiato da Pölzig proprio nel 1916 quando viene viene entra all'interno del consiglio comunale di Dresta e viene nominato direttore dell'ufficio urbanistica e dell'ufficio tecnico e in quel caso siamo nel 1916 in piena primo conflitto mondiale nel periodo di questo studio di questo progetto del Feuerwache di Dresden nel 1916-17 Feuerwache è la caserma dei vigili del fuoco si tratta di un periodo in sostanza in cui Pölzig andrà a studiare proprio per il compito a cui viene assegnato dal punto di vista professionale diversi progetti, grandi progetti per la città di Dresden in particolare un ospedale, un cimitero, una centrale elettrica e anche questo edificio, questa caserma dei vigili del fuoco in realtà di questi progetti solo la centrale elettrica che sarà una centrale elettrica a gas verrà realizzata mentre tutti gli altri rimarranno dei progetti sulla carta e anche questo progetto che ebbe tre differenti versioni è un progetto che non avrà un seguito da un punto di vista costruttivo ma è molto interessante per vedere come ha una funzione che ha sicuramente una complessità tecnica come la sede di una caserma per vigili del fuoco che ovviamente anche come vedete già da questa pianta ha la necessità di posizionare una serie di mezzi, una serie di spazi magazzino, spazi tecnici per le esercitazioni spazi di alloggiamento, spazi direzionali, centrali di coordinamento insomma una complessità che anche nel 1916 comunque era abbastanza avanzata una dimensione abbastanza importante, comunque Dresda era una città di dimensioni rilevanti soprattutto per l'epoca e come vedete la forma, questa sorta di elissoide regolare quasi organico e cellulare che Pulzig va a utilizzare viene utilizzato nella sua profondità nei punti dove ci sono funzioni direzionali cioè uffici come vedete con una semplice distribuzione a spina centrale e ai lati sia esterno che interno gli uffici e poi in base alle necessità vedete qua tutto lo spazio viene preso da questi spazi che accolgono i mezzi qua invece avete spazi direzionali, uffici e magazzini e all'interno invece i mezzi e poi la grande corte centrale che ovviamente non serve solo per la distribuzione e la movimentazione dei mezzi ma anche e soprattutto per le esercitazioni e poi vedete come in modo abbastanza regolare vengono posizionati anche però non solo in base a una regolarità ma soprattutto a una funzionalità i corpi scale che vanno a servire le varie parti anche montacariche e via dicendo questa è se la stessa pianta si vede forse un attimo meglio e vedete le murature in questo caso sono di maggiori dimensioni l'edificio era pensato con una struttura mista in calcestruzzo armato e in struttura in muratura portante e questi sono gli elevati ecco questa torre è ovviamente la torre per le esercitazioni dei vigili del fuoco che immagino tutti bene avete presente poi come viene utilizzata e questo che vedete intorno con questi elementi che vanno a degradare sui vari livelli è lo sviluppo inalzato dell'edificio che si tratta di un complesso in realtà di edifici che hanno varie funzioni tecniche per cui vedete che c'è un'articolazione altimetrica che passa da tre livelli fuori terra arrivando fino anche a sei sette livelli fuori terra e poi ovviamente escluso la torre che è un caso a parte però vedete come le varie funzioni vengono inserite nei vari livelli in modo da distribuire le varie funzioni anche se poi in realtà questo degradare che vediamo meglio questo è l'altro lato e qua vedete che si arriva ad avere sei livelli ultimo livello un livello alto quindi a un livello mezzanino settimo livello fuori terra vedete poi come la forma aumenta e ovviamente vedete anche questi elementi di arcate che ovviamente non sono sono delle arcate a tutto sesto ma in alcuni punti vedete verso l'interno a una svasatura per cui sono delle forme di paraboloidi poi all'interno proprio come dei fornici di un anfiteatro romano questa è la vista laterale e vedete appunto questo andamento a gradonate che è un un andamento che non ha solamente una necessità funzionale ma ha una necessità di mediazione ottica dei dislivelli che vanno fra le varie parti quindi andando a riequilibrare le necessità tecniche dell'edificio con una volontà compositiva e una prospettiva della forma che è anche una prospettiva di carattere spirituale ovviamente questa è una seconda versione in cui vedete questi arconi è la versione che è più simile diciamo al suo antenato storico che appunto un anfiteatro romano anche se nella realtà di Dresda non era una tipologia storica particolarmente legata al contesto esattamente storico ecco si vede probabilmente meglio in questa vista che però lo stesso identico prospetto la torre che spunta dietro questa versione invece questa è la prima versione del progetto in cui vedete non c'erano le arcate ma c'era questo gioco con una una gerarchia degli elementi verticali strutturali vedete avete gli elementi che in sostanza sono le campate che vedevamo anche prima il gioco a gradonate che vedevamo prima la torre scenica questi elementi permangono ovviamente vedete che questo fronte è molto più basso sono ovviamente le variazioni questi ovviamente sono dei plastici tutti i vari plastici che peulzig va a realizzare per all'interno dello studio che che ha principalmente a berlino sulle varie sulle versioni anche se qui torno a ripetere al periodo in cui poi aveva il suo ruolo in amministrazione a Dresda questa è la modello della seconda versione del progetto quella che di cui abbiamo visto i prospetti quella più simile all'anfiteatro romano invece questo di cui abbiamo solo un'immagine è il terzo progetto che invece come vedete è molto più immaginifico in cui in pratica la materia architettonica cioè i muri le murature portanti ma anche le strutture vengono erose vengono consunte sono tutti gli spigoli che sono spaccati sbeccati gli elementi verticali non sono sempre certo sono delle verticali ma se vedete in alcuni punti non sono mantenute perfettamente verticali le aperture sono quasi ogivali insomma c'è una 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 sorta di decadenza della versione del terzo progetto che è un'evoluzione da una prima versione che è una versione come vedete in questo modello che è pienamente una versione noi e sacco il kite molto più geometrica diventa storico nel mondo di un'anfiteatro romano e poi si evolve in una terza versione un'anfiteatro romano passando a diventare una rovina con il passare dei tempi e qui l'espressionismo di Pölzig ha la meglio su quello che è il progetto la forma del progetto e poi è interessante anche questo gioco di ritmie che utilizza con gli elementi architettonici gioco molto interessante che poi verrà portato in un bellissimo progetto che vedremo successivamente e non in questa lezione però al significato massimo in edifici di grandi complessi edilizzi di grandi dimensioni ancora più grandi di questo edificio poi in realtà mai realizzato e torniamo alla pianta in cui siamo partiti con il grande spazio per le esercitazioni e la forma lissoidale irregolare quasi a cellula dell'elemento dell'anfiteatro chiudiamo questo progetto realizzato di Pölzig e invece andiamo a vedere un altro progetto che è uno dei progetti dimensionalmente forse più grandi che Pölzig va a realizzare e dalle tantissime realizzazioni che poi Pölzig professionalmente realizzerà tantissimo nella sua carriera è un progetto realizzato a berlino tra 1917 e il 1919 che è la Grosses Schauspielhaus che in pratica non è altro che Schauspielhaus è un modo per dire teatro nel mondo di lingua tedesco e Grosses è il grande magnifico teatro in pratica si tratta di un progetto che viene commissionato a Pölzig da dall'impresario Max Reinhardt che per forse in storia dell'arte avrete sentito sicuramente un personaggio estremamente rilevante probabilmente il più rilevante della scena artistica e teatrale dell'epoca e Max Reinhardt va a realizzare a Berlino questo grande teatro sfruttando una struttura che era già preesistente precedentemente in sito c'era e lo possiamo anche vedere un attimo dalla forma questa è la pianta Untergeschoss è il piano seminterrato e in pratica vedete che questa forma di rettangolo irregolare che ha il edificio è in sostanza la forma di un isolato tutto intorno a strade e in pratica questo isolato precedentemente era un mercato un edificio a mercato un mercato coperto che era stato precedentemente realizzato da Friedrich Hitzig e che aveva anche una forma di copertura capanna che in pratica va a permanere nel senso che questo grande spazio precedentemente utilizzato a edificio ovviamente utilizzato a teatro viene poi ad ospitare un circo il circo Schumann che aveva al suo interno una grande arena ma poi successivamente Reinhardt rileva tutto il complesso e va a commissionare a Polzig la ristrutturazione quasi riedificazione in gran parte di questo di questo edificio che ovviamente i lavori come abbiamo detto si svolgono in due anni e il nuovo teatro apre nel 1919 e è interessante come Reinhardt voleva avere uno spazio teatrale che fosse aperto a tutta la città quindi dalle classi meno abbienti a quelle più ricche e ovviamente per poter avere avere spettacoli che funzionassero anche da un punto di vista remunerativo con prezzi molto bassi potessero attrare anche il classi meno abbienti c'era la necessità di avere una disponibilità di posti molto ampia e infatti l'edificio che viene realizzato da Polzig aveva 3500 posti a sedere quindi una dimensione veramente immensa contate che la SCA ne ha più o meno la metà e in pratica la classe della classe degli operai dei lavoratori che voleva essere parte ovviamente degli spettacoli ovviamente assistere essere spettatori delle opere di Reinhardt doveva poter accedere quindi a un prezzo basso e quindi c'erano posti per tutte le tasche e in pratica l'edificio non solo aveva la necessità di dare la possibilità di un ampio quantità di posti differenziati anche come qualità del post e quindi come visuale per poterla far pagare differentemente e questo era abbastanza rilevante per Polzig nel progetto ma in pratica l'edificio aveva anche la necessità vista la situazione sociale di avere anche delle offerte differenziate anche per quanto riguarda gli accessi i bar i ristoranti e tutto quanto correlava l'edificio in questo piano che voi vedete vedete che ai lati dell'edificio ci sono tante attività che racchiudono lo spazio teatrale che sono attività collaterali cioè non direttamente connesse alla funzione del teatro questi sono tutti spazi di servizio sale prove e quant'altro vedete anche la grande quantità di corpi scale ascensori montacarichi che sono inseriti all'interno della struttura ovviamente per le necessità sceniche e per la necessità di differenziazioni distributive sui vari livelli ovviamente qua si nota quello che era la sequenza dei grandi spazi di accessibilità al pubblico si entrava da questa parte di questa incurvatura ovviamente era l'elemento che denunciava l'ingresso del grande teatro da cui si accedeva c'erano gli atri e poi c'era il grande vestibolo interno da questa scala poi si accedeva alla platea ai piani superiori mentre poi c'erano tanti accessi laterali che permettevano appunto di avere degli accessi separati per le classi più ambienti quindi i posti più vicini e con la migliore vista e quindi più costosi per l'alta borghesia e invece un ingresso separato per le classi meno ambienti che accedevano lateralmente e addirittura c'erano dei ristoranti separati c'era un ristorante per le classi più ambienti e quelle meno ambienti una caffetteria e un bar che erano anche questi e servizio separatamente per le varie per le varie classi sociali e anche in realtà i tecnici e gli artisti che lavoravano all'interno avevano avevano degli spazi e delle attività dedicate avevano un bar dedicato un barbiere quindi un coiffure dedicato e anche spazi ovviamente tutti quelli che erano gli spazi di vestizione di cambio tutti i vari camerini via dicendo passando al piano superiore vediamo ovviamente quello che parlavamo vedevamo prima cioè in realtà questo spazio è sotto l'elemento del palco che lo vedete qua questo è il grande foyer che avete a cui a cui poi si accede quello centrale tutti gli accessi laterali vedete sempre quel sistema di attività collaterale di cui parlavamo prima poi in realtà ci sono tutti i servizi contate che 3.500 persone avevano oggettivamente necessità importanti di servizi e vedete anche appunto la quantità di distribuzioni questi ovviamente sono camerini questo l'accesso che filtrava dal dal foyer e da qui si accedeva vedete la platea ovviamente poi c'era la parte dedicata all'orchestra poi tutti gli spazi in realtà quelli del pack quelli dell'orchestra e questa parte dell'apatia potevano essere invertiti e utilizzati in modo differente ecco c'è da dire che la grossi shower spill house non aveva i palchetti e il motivo lo vediamo nella sezione in pratica qua voi avete l'ingresso questo è l'altro ingresso che vediamo lateralmente quello che ha l'accesso al di sotto del palco questo invece quello che accede direttamente al foyer principale che voi vedete uno spazio molto basso si vede in sezione da questo spazio basso si accede a questo spazio eccezionalmente alto quindi questo gioco prospettico di da uno spazio compresso e basso e lo spazio esplode quando si sale e si arriva all'interno di questo foyer da qui si accede e da qua si accede allo spazio della platea il gufo mistico qui vedete qua intorno le varie le varie gradonate ovviamente questi erano i posti dedicati a classi meno ambienti e vedete in pratica che vedete un attimo com'è fatta la la parte della della cupola del di questa sorta di di duomo che viene appunto di cupola che viene creata con questa presa di luce questo contro soffitto che voi qua vedete era durante la notte ovviamente durante gli spettacoli del vero era illuminato come fosse un un cielo notturno c'erano delle prese di luce che ricreavano alcune costellazioni nella parte alta vedete queste erano prese di luce che utilizzavano la luce naturale per i giochi di luce all'interno dell'ambiente ovviamente per le manifestazioni non solo quando il spazio teatrale non aveva bisogno di avere luce solo sullo spalco la torre scenica la profondità del palco che vedete qua il spazio per ovviamente la posizionamento delle scene tutte le necessità tecniche e qua vedete ecco questo sono alcuni dettagli del palco le visuali si vedono alcune parti degli studi questo è sempre un dettaglio del palco questi sono alcuni schizzi di pezzic questa piante con alcuni appunti qua vedete la una pianta divisa sui vari livelli come dicevamo qui questo asse centrale che permetteva gli ingressi da entrambi lati il foyer principale da questo questo è quello spazio centrale del foyer molto alto che vedevamo pelzig utilizza questi elementi come se fossero delle cascate di luce che tutti queste questo pilastro e che di cui pelzig prende ispirazione dagli giochi delle palme delle chiome delle palme come vedete che si generano con l'altro sono tutti illuminati e noi non vedete i colori ma questi elementi erano erano tutti dipinti in rosso in blu in modo da avere anche di riflessi abbastanza importanti e vedete questi spazi molto rarefatti quasi cavernosi e poi si entrava in questo ambiente che vedete qua davanti estremamente importante qua avete questo questa cupola con la luce che scendeva dall'alto che di cui parlavamo prima che aveva queste 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 sorte di 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 quelle che vengono chiamate macchernas che in pratica sono dei dei delle fave pendente ornamentali che sono come delle delle stalattiti che vanno a sottolineare la l'ascesa del grande duomo ecco l'assenza dei palchetti ovviamente permette anche questa questa grande verticalità dello spazio centrale con la luce che piove dall'alto e poi che veniva tutta illuminata da sotto queste queste elementi queste sorte di stalattiti che vengono tutto il giorno come fosse una grande caverna il palco vedete che il palco si ampliava qua in modo che ovviamente c'era teatro sperimentale le possibilità di utilizzo qua potrebbe essere riempito anche con un platea qua in questo caso come vedete il colfo mistico cioè la parte dedicata all'orchestra non si vede qua vedete invece tutti i grandi posti di queste 3500 spettatori altre viste dello spazio all'interno ecco questo era uno degli degli ingressi in quello ingresso principale sul foyer vedete all'esterno in pratica era una superficie molto scabra intonacata ecco queste sono le strutture sottostanti tutta la struttura dell'edificio è un sistema di strutture miste ma tutte le strutture orizzontali e spesso buona parte delle strutture verticali sono come vedete strutture in acciaio formate principalmente da travia ipe bullonate fatte a sezione bullonate l'una con l'altra che creavano un sistema molto complesso sia per le scene questo era tutto il mondo sotto il mondo della scena della scena teatrale del palcoscenico e di quella parte del palcoscenico che si protrendeva sotto la cupola verso gli spettatori queste sono fasi di costruzione torno a ripetere che in sé l'edificio l'involucro dell'edificio era parzialmente preesistente per cui c'è un grande lavoro anche di come vedete rifacimento degli spazi interni la scena interna avete l'oculo che prende la luce dall'alto che abbiamo visto nella sezione lo spazio è sempre in fase di lavoro durante i lavori ecco questa è la vista qua dietro qua dietro questa questa forma a capanna questa falda sta doppia falda sta il palco il palco è qua dietro come vedete che sono questi ingressi principali qua sotto qua c'è quell'asse che vedete era quell'asse che avevamo prima che con te vuoi e vari ambienti ma vedete in 70 si distratta di un asse che è una prosecuzione di un di un asse urbano infatti vedete come l'edificio è esattamente a questa facciata capanna con questo elemento del palco questa mezzaluna che si protrae sopra questo elemento porticato esattamente sull'asse in mezzo a questa ruo corridor e c'è questa scenografia questa asse lungo urbano stradale che finisce su questo immenso edificio perché ovviamente questo teatro era il più grande che c'era a berlino e uno dei più grandi che c'erano assoluto all'epoca 3.500 posti ovviamente dice molto e infatti vedete le dimensioni della scala urbana dell'intervento che sono estremamente importanti ancora alcune viste dell'interno la presa di luce che avevamo prima finalmente gli stalattiti e questa è una vista in cui vedete tutti intorno qua vedete tutti gli spazi commerciali che attornivano l'edificio qua questi erano tutti gli ambienti dove c'erano anche i camerini e tutti gli ambienti di servizio vedete qua tutti gli spazi commerciali che lo attornivano il grande fronte a capanna cieco con questi elementi vedete questi elementi dell'arco che abbiamo già rivisto anche in altri progetti di Pölzig questa è una vista che è un po' sfocata si vede il palco durante un allestimento ecco questi sono alcuni ambienti degli spazi dei ristoranti la parte degli accessi nel foyer verso i ristoranti con le scale laterali vedete qua c'è sicuramente un decorativismo abbastanza accentuato qua siamo ancora nel centro ecco questi sono alcuni disegni di Pölzig per lo spazio superiore del foyer anche con queste terrazze queste doppie altezze con i secondari foyer più bassi laterali questo elemento di luce ecco questi sono gli schizzi appunto da cui fa derivare questi pilastri vedete la figura altezza della figura umana e questi sono degli studi cromatici perché poi come dicevamo c'erano appunto dei giochi di colori e di luci pezzi parti laterali sempre i pilastri illuminati ecco le luci c'è i colori che poi in realtà saranno solo il rosso e il blu e ancora ancora la scala urbana dell'edificio che sicuramente è estremamente importante ecco questi sono gli spazi di distribuzione più alti vedete qua questo questo è un controsoffitto intonacato che questa sorta di ossature molto organiche sempre il foyer con i tipi di pilastrature queste sono quelle più semplici questo è verso il lato invece queste arcate questa è la parte del foyer al di sotto del palco qui siamo al di sotto del palco e questo invece è quello che tornavamo prima quello principale al piano superiore grande pilastratura colori e ancora la sala ecco qua si vede bene la struttura in acciaio al di sotto della spazio della platea una struttura colossale e qua si vede bene come però in realtà c'è una ovviamente una maglia strutturale abbastanza precisa che si adatta ovviamente c'è un modulo strutturale che poi viene adattato alle varie necessità nei vari punti ma vedete queste maglie di pilastrature molto differenti l'una dall'altra anche per tipologie e poi questa integrazione di tipologie strutturali asservite alle necessità dell'edificio questo grande macchina per lo spettacolo bene ora proseguiamo con quello che è l'edificio più rappresentativo di quella che è invece l'architettura che Pölzig va a utilizzare per gli edifici commerciali è un edificio che viene realizzato anche questo a Berlino l'edificio è andato perduto anche questo ed edificio è il Kino capital am zoo che non vuol dire nient'altro Kino è cinema cinema capital allo zoo perché era prospiciente lo zoo di Berlino ora l'edificio è andato distrutto è stato sostituito poi da un complesso realizzato nel secondo dopoguerra che era abbastanza famoso chiamato bikini e il l'edificio venne costruito fra 1920 progettato costruito fra 1923 e 1926 l'edificio in pratica era un edificio come vedete meglio da questa immagine decisamente meglio era un edificio commerciale lo zoo stava alle spalle dell'edificio davanti c'era un grande spazio pubblico e questo grande spazio pubblico era il Roman Forum che stava in Auguste Victoria Platz che era in pratica un grande complesso di edifici monumentali in neo romanico che il Kaiser Wilhelm aveva alla memoria di Kaiser Wilhelm erano stati edificati e proprio di fronte a questo edificio stava appunto la Kaiser Wilhelm Memorial Kirche che era un edificio in in neo romanico poi c'era una la romanesque house poi c'erano altri insomma altri edifici sempre neo romanico e l'edificio che in pratica Pölzig va a realizzare è un edificio che volutamente va in a mostrare in realtà un'espressività contemporanea è un edificio come vedete in linea che è un edificio commerciale che sta tutto sul fronte e sono queste sono tutte attività commerciali che sono indipendenti dalla struttura del cinema che dall'esterno è annunciato solo da questo ingresso che sono queste tre arcate centrali che sono gli ingressi al cinema e poi sopra c'è questo elemento ottagonale che tra l'altro portò via molto tempo di studio a Pölzig che doveva capire come annunciare sull'esterno l'edificio del cinema e capire come permettergli di avere un'attrattività rispetto alla strada e vedete sul fronte appunto c'è questa sequenza una serie di campate molto semplici su due livelli più un terzo livello più basso nella parte superiore e invece alle spalle questa è la vista dal retro e in pratica qua siamo già dentro lo zoo questo è il muro dello zoo questo è l'edificio per negozi che avevamo visto sul fronte e questo che vedete qua è il cinema stesso questa è proprio la struttura del cinema che è una struttura verticale in calcestruzzo armato poi in realtà le strutture orizzontali saranno principalmente in travi reticolari in acciaio poi per quanto riguarda soprattutto la grande sala del cinema mentre poi delle strutture semplici in calcestruzzo armato per quanto riguarda la parte degli spazi commerciali questa era la Kaiselm-Wilhelm Memorial Kirche di cui parlavamo prima che era proprio c'è ancora anche se fu bombardata è rimasto solo un troncone dopo la seconda guerra mondiale di fronte all'edificio del cinema e qua vedete anche tra l'altro come nella parte nella parte anche nella parte verso meno visibile quella verso lo zoo Pölzig mantiene questo concetto in cui si vede l'edificio è principalmente dato da trave e pilastro anche qui vedete trave e pilastro qua il tamponamento è fatto in laterizio perché ovviamente non c'era bisogno di aperture perché all'interno c'era il cinema mentre sugli spazi commerciali è data da un tamponamento e vetro quindi un modo contemporaneo di svolgere gli spazi questa è un'altra immagine in cui si vede di più la lunghezza delle campate e la serie ritmica all'interno del quale l'ingresso del cinema è posizionato una vista d'epoca la piazza ecco qua si vedono alcuni edifici di stile romanico che sono quelli che sono sul fronte che poi questi sono spariti una vista notturna con la piazza evidentemente pioveva e questa si vede l'edificio è questo che vedete che posto tra l'altro in modo asimmetrico rispetto al corpo per gli edifici per negozi che vedete qua l'edificio del cinema è proprio questo che in pratica ha appunto questo sistema di elementi che la sala del cinema è esagonale e poi al di sopra ha invece questa copertura questo elemento che sorge che poi ha all'interno un controsoffitto molto spettacolare ottagonale e qua lo zoo lo vedete alle spalle copertura piana copertura piana anche qua e questa era la kaiserville memorial kirche e questo è l'interno del cinema questa è quella copertura o col controsoffitto ottagonale di cui vi parlavo prima questa è qua stiamo guardando ovviamente sulla cabina di regia questi sono i buchi della cabina di regia da qua c'è un grande lampadario nella parte superiore con anche una presa di luce queste invece sono reti illuminazioni laterali che vengono vengono inserite da Pölzig ecco Pölzig è molto bravo in questo progetto a sfruttare i punti in cui la pareti verticali vanno incontrare andavano incontrare le pendenze del soffitto sfruttando i materiali e le forme in modo molto scenografico facendo sì che ovviamente con la luce questa costolatura che vedete che fa parte della della struttura del controsoffitto che poi vedremo in sezione sorretto da una trave reticolare in acciaio siano molto appariscenti ecco questo è il era il foyer e sicuramente una cosa particolare se sono alcune immagini però volevo andare a farvi vedere un attimo le piante e in modo che essere chiari ecco in pratica questo è il complesso qua siamo nello zoo qua la caserville qui vedete questi sono tutti i vari spazi commerciali vedete ovviamente la forma le accampate molto regolari della struttura qua c'è l'ingresso il foyer e questa è di per sé la sala del cinema e la sala del cinema ha delle caratteristiche precise dietro vedete tutto intorno gira uno spazio distributivo simmetrico ecco in realtà nel essendo il lotto di forma irregolare e avendo questo grande spazio commerciale sul fronte pelzig aveva paura di non essere in grado di inserire gli spazi distributivi in modo simmetrico così preciso al progetto in realtà poi ci riesce perfettamente come vedete poi qui sopra qua ovviamente abbiamo l'accesso alla platea poi ci sarà anche la balconata questo qui lo spazio della platea e andiamo a vedere ovviamente questo è l'altezza della 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 platea qua c'è lo spazio del cinema ecco qua bisogna sempre specificare che questi cinema erano cinema che avevano lo spazio per l'orchestra e anche la presenza di un organo perché il cinema in quel periodo iniziava ad avere il cinema musicato e parlato prima in realtà il cinema era muto quindi gli spettacoli erano accompagnati da orchestra e organo e in pratica vedete lo spazio simmetrico queste scale che vedete i lati molto particolari è la soluzione abbastanza geniale che che pelzig riesce a trovare per dare l'accesso dallo spazio dell'atrio alla salita alla balconata è cosa che ovviamente avete lo spazio come molto compresso lui pensava di non riuscire a tenere questa distribuzione davanti perché c'era ovviamente la necessità di dimensione dei corpi scala e invece riesce a ottenere entrambe le cose qua ci sono tutta una serie di di pacchetti come vedete qua le logge dei pacchetti e qua invece la lo spazio della platea qua sono i servizi in questa parte ancora ovviamente gli spazi più complessi sono le distribuzioni queste alla granata superiore anche perché poi ovviamente all'uscita dal cinema dalla 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 balconata e dalla platea si poteva uscire lateralmente anche di qua e e questi qui invece erano gli accessi tutti questi autori di distribuzione di servizi per la parte del palcoscenico che ovviamente per l'orchestra per il palcoscenico poteva essere non solo utilizzato per spettacoli cinematografici questo piano superiore e vedete avete la balconata un'altra serie di pacchetti abbastanza importante di logge proprio loggione tutto intorno anzi queste e qua vedete la parte distributiva questo è il foyer superiore che ha degli spazi a bar ristorante pianoforte via dicendo e qua sono quelle scale che abbiamo visto prima come si trasformano al piano superiore perché l'edificio al piano superiore poi va a invece ad arrivare all'affaccio a strada perché ovviamente è posizionato uno spazio commerciale ovviamente legato al ristorante bar che è questo e quindi è uno spazio vendibile qua il bar a piccola cucinino e qua vedete tutti gli ambienti la struttura la vedete qua adesso passiamo ecco qua è la spazio distributivi gli spazi della sala ovviamente qua vedete le funzioni sono evidenziate le distribuzioni verticali queste sono distribuzioni verticali ma sono quelle di servizio il foyer qua al centro l'elemento della biglietteria che poi permette appunto di avere questo grande spazio del foyer intorno questi sono i guardaroba che vedete qua ai lati le due piante una sull'altra che perfettano combattivano perfettamente vedete qua come si allarga la parte superiore queste scale sono queste questo è il prospetto del complesso vedete la parte ottagonale della copertura del cinema le campate molto regolari e questa è una sezione in cui si vede questo è tutto quel controsoffitto di cui parlavamo prima che è all'interno di questa sorta di tamburo ottagonale che vedete qua sopra qua c'è una presa di luce che permette di utilizzare anche la luce naturale o qua sotto poi c'era il grande lampadario con la luce artificiale questi erano i sistemi di areazione che vedete qua ai lati queste erano le distribuzioni delle della platea e delle balconate i palchetti e ovviamente il boccascena questi sono tutti gli spazi di servizio ovviamente tutti i sistemi di movimento questa è una sezione longitudinale in cui vedete qua si entra la biglietteria posta al centro qua avete le parti in cui avete i guardaroba la parte dell'orchestra il palco questo ovviamente lo schermo la cabina di regia questa parte qua tutto il controsoffitto vuoto vedete la struttura con lo spazio della copertura questa è una struttura in acciaio qua c'è una reticolare in acciaio qua il parte del ristorante bar sopra qua c'è un ulteriore livello che è utilizzato per parentesi tecnico cioè in realtà sono spazi da qui si accede anche la cabina di regia proprio sono spazi che erano sempre utilizzati con gli accessi lateralmente anche per le parti commerciali la balconata e vedete questo grande invaso sicuramente molto scenografico si vede un attimo bene nell'insieme e nel contesto anche la contemporaneità dell'edificio rispetto al contesto l'edificio poi venne bombardato nel 43 come tutta questa zona di questa chiesa oggi rimane solo questo moncone e parte qua che tra l'altro è stata lasciata come memoria dei bombardamenti questo venne completamente quasi completamente distrutto e poi successivamente venne i resti dopo la guerra vennero abbattuti e sostituiti dal complesso bichini. Ora chiudiamo questo edificio di Pölzig e arriviamo invece a vedere l'ultimo edificio che vediamo oggi di Pölzig come vedete chiude un attimo la sua carriera l'edificio è l'edificio realizzato fra il 1928 e il 1930 è un edificio sicuramente monumentale anche per le dimensioni e è un edificio che viene realizzato a Frankfurt a Main Francoforte e l'edificio è l'Egefarben che era un'azienda che era la quarta azienda al mondo per dimensioni all'epoca che si occupava della produzione di prodotti chimici e di anche pitture anche pitture che aveva potuto di vista parte comunque in linea di massima prodotti dipendenti dal settore chimico e oggigiorno è la sede della Goethe Universität e è un edificio sicuramente imponente sotto ogni punto di vista è un edificio che tra l'altro venne costruito su un terreno che oggi è nel nel West End Bezirk di Frankfurt è un terreno di dimensioni molto importanti il terreno viene comprato nel 1927 dalla Egefarben per realizzare non tutta l'azienda ma solamente gli uffici i quartieri generali degli uffici per cui potete pensare ovviamente qua vedete questo è tutto il lotto questo è l'edificio realizzato a Pölzig in realtà sono due edifici cioè questo e questo nell'agosto del 1928 Pölzig che era professore a allora a Berlino alla Tecnici Hochschule in pratica nel 1928 viene viene invitato insieme ad altri cinque professionisti in un concorso di progettazione ad inviti e Pölzig vince il concorso di progettazione e tra l'altro batte diversi progettisti importanti anche Ernst May che poi vedremo successivamente e in pratica gli viene affidato l'incarico e già nella nell'inverno del tardo inverno del 1928 iniziano i lavori per la costruzione delle fondazioni quindi tempi molto stretti la lavori procedono in modo molto spedito la costruzione che si basava su un sistema di struttura mista in acciaio e un calcestruzzo armato principalmente per i basamenti in acciaio soprattutto per le parti per le parti levati quindi una struttura in acciaio procede molto molto velocemente durante il 1929 e dopo due anni esatti nel 1930 i lavori vengono conclusi grazie a un sistema di realizzazione delle fondazioni con un calcestruzzo a presa rapida e anche un sistema di prefabbricazioni per le strutture ma è anche un utilizzo delle delle manovalanze quindi degli operai con una tornazione oraria anche fuori dagli orari normali di lavorazione in pratica questa sede per principalmente quindi amministrazione e amministrazione in generale direzione e uffici di amministrazione era come dicevamo della sesta multinazionale al mondo per la produzione di materiali chimici questa è come vedete la struttura cioè i basamenti sono in calcestruzzo avete la struttura totalmente in in acciaio per la parte in elevazione sia i solai che le strutture verticali che tra l'altro hanno permesso l'edificazione in tempi abbastanza decisamente brevi di questo immenso edificio immenso edificio perché si tratta di un edificio che è fatto da composto da sei ali connesso da questo sistema vedete qua che è sì la distribuzione ma come vedete accoglie anche uffici e che in pratica ha una lunghezza da parte a parte di 250 metri un'altezza di 35 metri per nove piani di sviluppo fuoriterra con delle altezze dei piani terra che però erano variabili cioè le torri avevano queste avevano un'altezza del piano terra di quattro metri e sessanta mentre la parte curvata dell'ale centrale aveva un'altezza di quattro metri e venti in cui ovviamente permetteva alle torri di essere più alte e di svettare sulla parte della della struttura e in pratica le ali queste queste sei ali quindi erano più alte della spina di distribuzione nella distribuzione centrale l'edificio aveva una volumetria di 280 mila metri cubi quindi estremamente importante impiegava 4.600 tonnellate di acciaio e aveva più di quasi 56 mila 55 mila 740 metri quadri di superfici ad uffici 55 mila 740 quindi una struttura estremamente importante contate che le facciate che erano e sono interamente rivestite con una pietra calcarea una sorta di di travertino che è il Stuttgart Bad Cannstatt che è una pietra calcarea lì della zona molto famosa anche per l'edilizia corrente anche storica ha delle facciate rivestite con questa pietra calcarea che raggiungono 33 mila metri quadri di superficie solo delle facciate solo delle parti di rivestimento in pietra per cui è un edificio sicuramente di dimensioni molto importanti in cui tra l'altro il cliente diciamo che quasi non badava a spese la necessità ovviamente era la realizzazione in tempi rapidi e la realizzazione con il massimo dell'efficienza. Ora voi vedete l'elevazione ovviamente avete il piano semi interrato l'elevazione dei sette livelli centrali ma qua dentro ovviamente c'è un altro livello e per cui arriviamo ai nove livelli di cui troviamo questo è l'ingresso principale ovviamente è una vista di oggigiorno quando è già la Goethe Universität all'interno dell'edificio da diverso tempo attraverso i decenni e in pratica come dicevamo l'edificio questa è appunto l'edificio ha nella parte delle torri delle ali delle sei ali degli spazi a doppia altezza questa è una delle biblioteche questa è questa presa di luce zenitale che voi vedete è appunto in una delle delle torri delle sei torri questi sono l'ambiente a doppia altezza di cui parlavamo prima cioè praticamente questa altezza e in pratica questo vedete gli ambienti interni questa è la biblioteca una biblioteca universitaria oggigiorno questa è una vista sul retro che vedete a faccia c'è il giardino poi lo spazio sul retro è gestito con questa con questa fontana questo lago fontana c'è una cascata che scende poi la vediamo successivamente è abbastanza evidente anche dalla facciata vedere il modulo che gestisce tutto il disegno della della facciata e la struttura che abbiamo visto in in acciaio anche in fase di costruzione qua avete un pronau con questo che è l'ingresso abbastanza monumentale che ovviamente è una tipologia abbastanza consolidata per edifici rappresentativi soprattutto all'epoca e questa immagine che voi state vedendo adesso siamo all'interno perché entrati da qui ci vedete che c'è questo spazio ovale e questo spazio ovale all'interno a queste due scali in questa ne vedete una ce n'è una dall'altra parte simmetricamente adesso vediamo questa è una vista di notturna vediamo un po di immagini degli interni adesso è questo lo spazio sul retro in cui vedete lo spazio ovale che arriva con questi spazi a tutta altezza vetrato e uno spazio a tutta altezza per eventi congressi e dicendo poi ci sono avete una 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 distanza di 100 metri con questa vedete questa cascata che scende qui qui c'è il laghetto e poi qua dietro c'era l'ufficio della direzione vista l'ingresso ovviamente al portico si poteva accedere in auto scaricare le persone al coperto e farle entrare questa è la cascata che dicevano prima la fontana cascata prima il laghetto con anche l'elemento scultorio vedete il rivestimento è di tipologia diversa e la pietra però è la stessa pietra spacco però messa con inclinazione come fosse fare un opus incertum queste sono le scale laterali sempre difficile direzionale ecco questo è lo spazio che ci si trova all'interno appena si entra dall'edificio dal portico non nella parte direzionale ma nell'edificio principale questa è la scarinata che vedete colore lateralmente e questi che vedete sopra sono già le parti distributive della spina cioè sono i corridoi centrali che distribuiscono questo invece con lo spazio a tutta altezza nello void che si vedeva sul retro i corridoi questo è il passaggio ovviamente dal corridoio si prosegue quando si passa in mezzo all'atrio si passa qua in mezzo queste invece sono le ali le torri spazi completamente liberi per uffici questa è una vista dell'epoca e i corpi scale ogni torre ha un corpo scale su verso l'interno questi sono i piani più alti delle torri che ci sono due che sono utilizzati per sale e riunioni spazi di rappresentanza ecco questo è uno degli spazi a doppia altezza dove poi simile a quello dove poi è stata allestita la biblioteca sempre questi ambienti di rappresentanza nelle torri queste invece è una foto della sala da pranzo dell'edificio della della direzione questo è sempre nell'edificio delle direzioni uno spazio di attesa degli uffici vedete la rivestimento in marmo interno i colori contro soffitti con le luci retroilluminati a incasso prese di luce verticali zenitali sicuramente un complesso di altissimo livello qua siamo sempre nell'ambiente della spazio della direzione ecco questa è la forma lo spazio dire della direzione era questo il laghetto una due tre quattro cinque sei ale lo spazio ovoidale è questo il portico il prono d'ingresso è questo questo è un corpo di servizio laterale che non abbiamo ancora visto l'impianto sempre qua e queste sono le piante al piano terra il portico questi sono i pilastri del portico si passa sotto con l'auto si entra si trovano i due scaloni laterali vedete la spina di distribuzione una due tre quattro cinque sei torri vedete che la spina di distribuzione quella curvata ad arco in pratica ha sul lato interno la distribuzione sul lato esterno proprio a spina la posizione di tutti gli uffici e questi invece sono tutti grandi spazi alcuni lasciati liberi altri invece suddivisi con le distribuzioni vedete che tutte le torri ovviamente quelle laterali sono più lunghe sono simmetriche vedete queste invece quelle centrali sono più corte quelle laterali che chiudono e sono più lunghe hanno tutte ognuna servizi ascensore corpo scala quelli che vediamo nelle foto questo è il grande spazio a tutta altezza vetrato il passaggio e questo è il livello superiore in cui spazio a doppia altezza spazio a doppia altezza spazi e riunioni quelli che vediamo prima la distribuzione corpi scali servizi uffici questi sono quelli liberi uffici proprio spazio libero distribuzione uffici anche qua vedete che tutti questi tavolati che vedete qui in realtà sono removibili in modo da poter configurare liberamente lo spazio il più possibile è evidente ovviamente come tutto questo se ho sotto una maglia modulare che è quella della struttura in acciaio sezione in cui scusate sezione in cui praticamente vedete quei 35 metri dall'altezza del piano più alto questa invece è la parte distributiva che è leggermente più bassa perché il piano terra è più basso piano seminterrato qua avete la sequenza verticale dei livelli avete i vostri 9 livelli di sequenza verticale e qua vedete tra l'altro come nelle torri questa è una sezione su una delle torri centrali infatti vedete che la parte dove c'è il corpo scale è più corta si crea anche questo gioco di schermo con le aperture questo è fenêtre in longeur però non complete un po' come la la Geschäftshaus di Breslau sotto sezione più dettagliata della torre questa è una sezione delle torri con la presa di luce zenitale nella parte alta il seminterrato e tutti i vari livelli e qua questa è una vista d'epoca solo che si vede purtroppo male questo è un plastico dell'epoca ecco di questi corpi di fabbrica poi in realtà ne fu costruito solo uno questo la parte direzionale come avevamo prima e il sistema se vedete un po' differente perché qua era prevista un ale in più e insomma il progetto originario che vengo generizzando in questo plastico era un attimo diverso e questo è il complesso oggigiorno questo è la parte realizzata da Pölzig questa è la parte della direzione sempre di Pölzig e queste invece sono tutti i nuovi corpi di fabbrica della Goethe Universität all'interno di quello che era il campus delle Gefarbe quindi il grande giardino su cui c'erano tutti i corpi di fabbrica delle Gefarbe e questi sono alcuni degli spazi riunioni che sono stati mantenuti nelle torri originali vedete la boiserie di rivestimento il corpo nel controsoffitto retroilluminato vedete anche la classe dal punto di vista di disegno degli spazi interni che c'è all'interno di questi spazi estremamente contemporanei una vista della della vasca con la ninfa in bronzo qua vedete la cascata il corpo della direzione con la terrazza la grande terrazza sulla parte superiore sdoppiata tra l'altro l'impianto simmetrico questo è lo spazio di tutta altezza per gli eventi che faceva parte di quelli lissoidi che vedevamo prima questa è la vista ovviamente di mezzo ai due edifici una vista che purtroppo non si vede molto bene però della della scalinata doppia all'ingresso questi sono alcuni dettagli dei corpi illuminanti disegnati direttamente tra Pulsig vedete in ottone molto belli anche questi originali e ancora una vista all'insieme dell'epoca dove oggi poi qui è occupata dal campus delle Gifarben questo è l'ultimo progetto di Pulsig che andiamo a vedere in questa lezione poi in realtà vedremo almeno un altro progetto di Pulsig in occasione della sua partecipazione a un concorso internazionale di progettazione molto partecipato nel pochi anni sei anni circa dopo questo progetto questo progetto e ovviamente proseguiamo poi nella lezione successiva con in questo caso proseguiremo con Erich Mendelssohn ovviamente il punto di unione di Pulsig come di Mendelssohn è certo il Doce Verkund ma anche in realtà quello che fu il movimento quel gruppo di giovani progettisti che si venne a creare nel 1926 a Berlino chiamato The Ring cioè l'anello come in inglese e in pratica il gruppo che aveva nel suo animo o meglio nel suo Nervo due importanti progettisti che erano che furono Ugo Haring e Miss Van Der Rohe che dividevano lo studio a Berlino in quell'opero studio professionale lo condividevano e furono poi le anime del gruppo di The Ring che ovviamente era animato dalla volontà di promozione della dell'architettura a noi e Sacklichite attraverso una un'interpretazione con una visione espressionista dell'architettura a noi Sacklichite ma con un'agenda di carattere funzionale e questi giovani architetti tra i quali Gropius che poi vedremo successivamente come vi ho detto Miss Van Der Rohe Ludwig Inbersheimer Ernst May che vedremo successivamente Aldous Mayer di cui abbiamo già parlato Hans Sharun di cui vedremo qualcosa Peter Behrens che se vi ricordate era colui che avrà ha praticantato sotto il suo studio sia Walter Gropius che Miss Van Der Rohe Ugo Haring che abbiamo appena citato Mendelssohn lo vedremo tra poco Bruno Taut abbiamo già parlato di Traut per il Glass Pavilion alla Werkpund Ausstellung di Köln e come abbiamo detto Hans Pölzig che faceva sempre parte di questo gruppo e in pratica all'interno di questa realtà berlinese che fu fondata originariamente da un gruppo di dieci progettisti che ovviamente la cui animo il nerbo erano proprio Miss 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 Van Der Rohe e Ugo Haring ma poi anche Behrens Mendelssohn Pölzig Taut e altri tre progettisti che non andremo a vedere aveva tra le sue attività che durarono fino al 1933 quando gran parte di questi progettisti pian piano lasciarono la Germania per l'ascesa del nazionalsocialismo la volontà di promuovere la propria architettura Neue Saclicate attraverso pubblicazioni mostre iniziative e scambi di idee perché poi il gruppo venne allargato successivamente a un numero molto importante di membri fuori dalla cerchia berlinese e fu il momento in cui il Bersheimer Ernst May Adolf Mayer Sharon e nello stesso Gropius si inserirono all'interno del gruppo ma anche Ernst Tessen per esempio di cui probabilmente non avremo tempo di parlare ma che è un nome che sicuramente va tenuto bene presente chiudiamo quindi la lezione di oggi su questo progetto che c'è un po' che c'è ma che c'è un po' Grazie a tutti.